registriamo un test audio sono senza cuffiette con il telefono normale con il microfono del telefono normale colpo di tosse il volume è a metà adesso invece il volume è al massimo o quasi sì sì è proprio al massimo ecco così si sente la differenza della voce sto parlando con un tono di voce molto basso ad una distanza del telefono di circa 10 12 centimetri buon ascolto